E' stata applicata tante volte, soprattutto gli esperimenti migliori sono stati fatti nel basket, ci sono state squadre di basket che al posto di allenarsi a tirare a canestro si allenavano a visualizzare, ciò vuol dire che non ho il pallone in mano, ma nella mia testa immagino, immagino in modo talmente vivido, chiaro, che noto, sento nella mia immagine il peso del pallone, noto come si deve muovere la mano, e addirittura sono in grado di vedere se con quel movimento la palla va o non va. Ogni volta che voi avete visualizzato, che siete calmati, fermati, avete visualizzato il movimento, poi lo avete visto in grado. in questo caso non avete potuto fare un'evoluzione di chiudere, appena sono il movimento, che ti vedo un'altra cosa. eh donatta l'avrebbe chiamato ora li chiamati via voglio spazio voglio spazio via bravi bravi Mattia è stato molto bravo perché? chi me lo sa direi Mattia ha osservato, ha guardato tutti i due i suoi compagni e l'avversario e dopo aver osservato, ha deciso che per il libro era un giorno, bravo! la rulliamo con la suola e la controlliamo con l'altro piede! dobbiamo cadere da una parte è un arrullato interno suolo bravo 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 bra Uno qua, uno lì e tra i due, uno qua, dobbiamo fare un rompo, una croccia, uno lì, uno lì, tra i due, uno lì, in questo quadrante, qui. Ok, adesso andiamo a fare un lavoro proprio edentico per le finte, quindi tutti col piede destro partiti in movimento, quando io vi do il via, che sarò lì in mezzo, via forbice destro, uscita col piede sinistro, vado portando l'altro lato, qui dobbiamo muoverci tutti insieme, quindi finta col destro, uno, due spinni e la ferra. Vai, uno, due, difesa qui lì, metà, parla a ferra, parla a ferra, parla a ferra, parla a ferra, le aff actor, were vendete minimетрiche, via parla a ferra, parla a ferra, parla a ferra, pat niente o autistici, quando hai anche toccoli. Ragazzi, se io la palla la tocco immaginiamo che io sono il difensore. Se io faccio finta, a bocca alla finta, e la tocco corta, io lo supero a lui, se la tocco lunga, vai, vai, appena la palla, ormice, vado lì, quindi tutto col destro, e la palla, si va, si va, si va, la gliene la palla vicini piedi, vai, bravo, ok, buono, stop, adesso, il movimento diventa doppio, quindi se io faccio la finta doppia, partendo col destro, quindi destra, sinistra, destra, io devo farla un po' prima o un po' dopo, vai, ok, ok, che va, ok, il tempo, e la giudizia della volta, quando hai visto, tu stai con la tua figia noi, lo hai visto? Buongiorno a tutti i nostri amici. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti